Buongiorno a tutti carissimi, anche oggi facciamo il nostro esercizio di centratura di radicamento insieme. Quindi come vedete sono circondata da meravigliosi alberi che sono qua vicino a me, quindi facciamo sempre la nostra centratura nel cuore, quindi chiediamo il permesso, inspiriamo e iniziamo a percepire l'amore che in onda del nostro essere ci ricolma della sua energia attraverso la luce e il soffio vitale che ci attraversa e poi rilasciamo la gratitudine tutto intorno, quindi poi vediamo come al solito la risposta alla nostra energia delle piante intorno, quindi le piante che abbiamo visto sono esseri viventi. In aggiunta oggi, oltre al pilastro centrale, visualizziamo un pilastro centrale di luce che ci connette al cuore della madre terra e al cuore del sole. Quindi si estende anche oltre la nostra testa e oltre i nostri piedi, quindi con la respirazione riserviamo l'energia dalla terra e riserviamo dall'alto l'energia dal sole e sentiamo nel nostro cuore appunto le due energie che si fondono nell'equilibrio, nella ricerca dell'equilibrio e dell'armonia delle due energie complementari. A questo punto oggi facciamo anche la visualizzazione della sfera, della sfera di luce, quindi tutto intorno a noi che riproduce in sostanza il nostro campo energetico. Ok, quindi visualizziamo la sfera intorno e quando espandiamo l'amore e la gratitudine dal centro si espande tutto intorno, quindi si amplifica il nostro potere energetico grazie alla sfera, grazie a questa visualizzazione. Adesso lo facciamo. E si espande tutto intorno a noi. E vediamo appunto adesso anche il vento, gli alberi tutto intorno che sentono l'energia, si sente la vibrazione e si può espandere quindi a partire dal nostro centro, a partire dal cuore, si espande appunto l'alta vibrazione. E questo ci aiuta a centrarci e soprattutto a stare distaccati, osservatori distaccati rispetto a tutto ciò che ci circonda e a emanare vibrazioni di luce, quindi restituendo alla madre terra, restituendo al mondo intorno a noi una vibrazione, una frequenza luminosa. Per oggi è tutto, un caro saluto a tutti e buon esercizio. Ciao!